Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consigliato appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata all'incontro promosso oggi a Gela dal manager dell'azienda sanitaria provinciale Carmelo Iacono. Numerosi punti trattati, si è parlato tra le altre cose di polo oncologico, nuove tacche, cittadella della salute, vediamo. Il riordino della struttura sanitaria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è stato al centro di un incontro promosso oggi dal manager dell'azienda sanitaria di Gela. Molte azioni sono già state fatte in questo senso, ma molte altre azioni saranno fatte. Mi piace dire che per quanto riguarda il Gela abbiamo dei progetti che sono progetti assolutamente importanti. Durante l'incontro di oggi si è parlato anche del polo oncologico. Ho visto che c'è stata un pochettino di speculazione sull'argomento del polo oncologico a San Cataldo, ma l'atto aziendale, ed è a conoscenza di tutti perché è pubblicato sul nostro sito, prevede un perfetto equilibrio tra i due poli che ci saranno oncologici in provincia, che sarà uno all'ospedale Vittorio Emanuele e uno all'ospedale di San Cataldo. Ovviamente, probabilmente, quello di San Cataldo può sembrare più eclatante perché è come se fosse il padiglione di un ospedale, ma Gela non abbiamo il padiglione di un ospedale da dedicare all'oncologia. Però, purtuttavia, mi piace ricordare che al Vittorio Emanuele sono previste una divisione di oncologia medica con posti letto e stiamo cercando, già abbiamo individuato, l'allocazione nei nuovi locali dell'oncologia dove avrà il posti letto, raddoppiando il numero di stanze che ha a disposizione. Ci sarà una unità operativa semplice di ematologia, c'è l'UFA per la diluizione dei farmacenti plastici, ci sarà l'unica unità operativa complessa di breast unit, proprio seguendo una vocazione che c'è all'interno di questo ospedale, c'è l'unità operativa complessa di radioterapia e poi ci sarà l'unità operativa semplice per quanto riguarda la prevenzione secondaria dei tumori, degli screening oncologici. In aggiunta c'è anche l'ospice, stesse identiche cose che sono all'ospedale di San Gadaldo, all'ospedale Sant'Elia San Gadaldo. Il manager si è soffermato anche sulla novità che riguarda la tacca. Tra le tacche che abbiamo acquistato, una di queste tacche, ve la porto a titolo di esempio, andrà proprio allocata all'ospedale Vittorio Emanuele, ma non in sostituzione della tacche che già c'è, ma in aggiunta alla tacche che c'è, tacche che dico verrà anche sostituita quella che c'è con una tacche con maggiore potenza di indagine. Durante l'incontro si è parlato anche della cittadella della salute. Nel terreno limitrofo all'IPAB che andremo probabilmente per allocare tutta la medicina territoriale, in quel terreno limitrofo noi abbiamo intenzione di andare a creare una struttura leggera che possa accogliere ambulatori e servizi che sono tra l'ospedale e il territorio, quindi creare qualcosa che è estremamente integrato. Ebbene, abbiamo fatto un solo luogo con la sovrintendenza delle belle arti per vedere se ciò era fattibile in questo terreno, se c'erano dei vincoli particolari e abbiamo avuto la conferma che quella che è la nostra idea può essere un'idea che è percorribile. Stasera torna, come ogni venerdì, Agorà, il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico ideato e condotto da Franco Gallo. Si occuperà come sempre di argomenti e temi che riguardano gele e gelesi. Al centro della puntata odierna, di Agorà, proprio il pianeta dei servizi sanitari, offerte ad una comunità tra le più colpite dalle patologie connesse alla presenza di un grande insediamento industriale petrolchimico. Tanti gli ospiti studi e tra questi anche la presenza importante del manager dell'ASPA di Caltanissetta, Carmelo Iaco. Appuntamento dunque alle ore 21 con una nuova interessante puntata di Agorà. Adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria. Adesso vi riferiamo della sentenza emessa dalla Cassazione nei confronti del gelese Fabio Greco, ritenuto responsabile dell'omicidio della madre adottiva. Dovrà scontare 18 anni di reclusione. Vediamo. Condanna definitiva emessa dai giudici della Corte di Cassazione. Il 42enne gelese Fabio Greco dovrà scontare 18 anni di carcere per aver ucciso il 23 agosto del 2012 la madre adottiva Yolanda di Natale, 73 anni. Ha respinto il ricorso presentato dalla legale di fiducia dell'uomo, l'avvocato Giacomo Ventura. Nell'ottobre di due anni dietro la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta emessa identica condanna dopo che il giudice delle udienze preliminari, in primo grado, aveva dichiarato Greco non imputabile, imponendogli comunque il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo di 15 anni. In appello però tutto venne ribaltato a seguito di una nuova perizia. Secondo quanto stabilito dai periti, Fabio Greco, che all'epoca dei fatti aveva 38 anni, avrebbe lucidamente ucciso la madre adottiva all'interno del loro appartamento di via Cocchiara. La massacrò senza pietà, accanendosi contro di lei e sfigurandole il volto fino a renderla irriconoscibile. Utilizzò qualsiasi oggetto le capitasse tra le mani, un coltello da cucina, una statuetta in marmo, una sedia in legno, un quadro. Come in un film horror, inoltre utilizzò anche uno spillo, conficcando glielo negli occhi e nelle guance. L'imputato rispondeva anche dal tentato omicidio del carabiniere Giuseppe Emanuello. Il militare dell'arma, infatti intervenuto nel tentativo di disarmare l'uomo, venne più volte colpito con una lama. Sia i familiari di Yolanda di Natale, sia il carabiniere, si sono costituiti parte civile con l'avvocato Flavio Sinatra. La difesa del 42enne ha sempre puntato sul suo stato psichico precario. In base alla ricostruzione dell'avvocato Giacomo Ventura, supportato da una serie di perizie, Greco avrebbe agito perché affetto da disturbi schizzoidei. Una linea accolta dal GUP in primo grado, ma esclusa, come dicevamo, in appello davanti ai giudici della Corte d'Assise Nissena. In Cassazione, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna. La prefettura di Caltanissetta, su proposta del Comune di Gela, ha istituito nella città del Golfo uno dei quattro centri operativi misti del Nisseno, il Comune, una struttura operativa che coordina i servizi di emergenza intercomunale al verificarsi di un evento calamitoso, con lo scopo di coordinare gli interventi di tutte le componenti e le strutture operative costituenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile, che prendono parte alla gestione dell'emergenza. Per la città è un grande risultato, ha commentato l'assessore Eugenio Catania, che premia il lavoro del sindaco nel trovare una soluzione idonea e conforme ai requisiti della legge e delle indicazioni date dal prefetto Cucinotta. Il maggiore esponente del governo in provincia ci è stato molto vicino e ha portato ad una soluzione idonea per attivare soccorsi in caso di emergenza per i territori dei Comuni di Gela e Butera, che costituiscono la fascia più ampia dell'area centro-meridionale della Sicilia. La Commissione Affari Generali del Comune di Gela, presieduta da Giuseppe Guastella, sta provvedendo alla stesura di un regolamento che disciplini l'esecuzione dei lavori ordinari da parte di Caltacqua e nelle distribuzioni al fine di evitare disagi, da parte delle attività commerciali e della cittadinanza tutta. Lo stesso regolamento prevede anche i tempi per il ripristino dello stato dei luoghi e la presenza in caso di lavori di natura elettrica di un gruppo di continuità. Drammatico crollo dei prezzi di vendita nelle produzioni agricole ripetute nel tempo con flessione dei prezzi sino al 60-70%, una crisi economica senza precedenti e i sindaci della fascia trasformata scendono in piazza. Lunedì 14 marzo prossimo è prevista una manifestazione pacifica dell'agricoltura siciliana al fine di far sentire la voce di disperazione degli agricoltori isolari. In contemporanea si riunirà il Consiglio d'Europa dei Ministri dell'Agricoltura, incontro durante il quale il Ministro dell'Agricoltura del Governo italiano chiederà l'attivazione delle clausole di salvaguardia previste nel Trattato Euro-Mediterraneo. Ma quali sono i problemi che interessano nel comparto agricolo? Il sindaco di Miscemi, Francesco Larosa. La concorrenza è girata, la mancata applicazione dell'articolo 7 per le norme di salvaguardia, poi l'indebitamento che le imprese hanno e quindi non possono partecipare a PSR. Sarà dunque una giornata di mobilitazione dei comuni e di intere città e per quel giorno si chiede, partendo dalla chiusura simbolica dei municipi, il fermo di tutte le attività economiche, commerciali e sociali in modo da far sentire il peso della crisi in maniera anche fortemente simbolica. Io invito i miei concittadini e tutti quanti a non mandare a scuola. Noi faremo sì di chiudere i comuni con delle decisioni di protesta per dar forza al ministro che sarà a Bruxelles. Ci saranno delle norme che saranno applicate dalla regione, che saranno quelle di bloccare tutti i crediti verso le banche e la Tera e con l'intervento da parte della regione, visto che può finanziare anche 13 milioni di euro alla Tera, che può benissimo intervenire verso gli altri costori. Da parte di Roma ci può essere un controllo in più alle frontiere e da parte della comunità europea far partire l'enorme disabagazione. La manifestazione sarà dislocata in alcune città simbolicamente rilevanti dal punto di vista agricolo. Nisce, Mige, La Licata, Pachino, Francofonte e Vittoria sfileranno in corteo pacifico agricoltori, studenti e cittadini guidati dai sindaci dei comuni siciliani. Un progetto formativo e didattico di educazione ecologica che trasforma in orti didattici e aree verdi in stato di abbandono o di degrado. Lo ha chiesto l'amministrazione comunale di Gela alle scuole primarie della città. Alle proposte presentate verrà assegnato un contributo per le spese di manutenzione dell'area prescelta di impianto dell'orto per piccoli attrezzi e altro. Crediamo nell'educazione delle nuove generazioni, al rispetto della natura, alla conoscenza dei prodotti agricoli locali, alla sana alimentazione, al recupero delle tradizioni agricole, ha commentato il sindaco di Gela, Domenico Messinese. Con queste iniziative bambini potranno imparare la coltivazione degli ortaggi, piantare i semi e vederli gradualmente trasformarsi in piante, osservando la natura e i suoi ritmi, raccogliendo i frutti di questo lavoro. Il progetto ha spiegato l'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco, mira ad istituire piccole comunità di apprendimento formate da studenti, insegnanti, genitori, nonni e produttori locali per facilitare la trasmissione alle giovani generazioni dei saperi legati alla cultura del cibo e alla salvaguardia dell'ambiente, trovando nell'area verde recuperata e redattata il luogo comune di scambio delle esperienze. Torna, come periodicamente accade, un importante appuntamento con l'AISM. Ci vuole spiegare di che appuntamento si tratta e di che cosa si occupa l'AISM? Allora, l'AISM è un'associazione italiana che si occupa di sclerosi multipla. È l'unica che a livello nazionale, a 360 gradi, è un punto di riferimento per le persone con sclerosi multipla. Nel corso dell'anno noi raccogliamo fondi che sono destinati alla ricerca scientifica e una di queste occasioni è proprio per la festa della donna. Attraverso, infatti, l'acquisto della gardenia potremo contribuire a rinpinguare le casse non soltanto della sezione provinciale di Caltanissetta per i progetti finanziati nei confronti delle persone con sclerosi multipla, ma principalmente per raccogliere fondi che sono destinati alla ricerca scientifica. In particolare, quest'anno, la fondazione italiana Sclerosi Multipla si occuperà di destinare questi fondi alla sclerosi multipla pediatrica che purtroppo colpisce tra il 5 e il 10% dei soggetti che appunto sono colpiti da sclerosi multipla. La sclerosi multipla è sicuramente una malattia molto grave, una malattia invasiva, ma la ricerca può fare molto e di fatto sta facendo molto anche per migliorare la qualità della vita dei malati. Sì, infatti queste sono occasioni in cui è importante anche dare messaggi positivi che per fortuna ci giungono dai risultati della ricerca scientifica che davvero negli ultimi decenni ha portato a notevoli sviluppi per cercare di ridurre quelle che sono le problematiche cui potrebbe andare incontro un soggetto con sclerosi multipla. Quindi le speranze sono quelle di attivare ancora di più la scienza in modo da giungere veramente ad un mondo libero dalla sclerosi multipla. Questa è una delle poche occasioni in cui si ha la possibilità di fare del bene insomma senza far molto poi. Cioè basta acquistare una gardenia al prezzo di 15 euro. Dove potranno trovarvi i cittadini gelesi? In quali orari e in quali giorni? Allora sì, noi scenderemo in tutto il territorio della provincia di Caltanissette per quello che ci interessa anche nella nostra città di Gela in davanti a molti supermercati sin dalla mattina quindi dalle 9, 9 e 30 per tutta la giornata di sabato e invece la domenica davanti ai sagrati di molte parrocchie che hanno dato la loro disponibilità. E lo stesso verrà fatto poi nella giornata dell'8 marzo che come dicevo poc'anzi è destinata appunto a celebrare la donna e quindi perché non regalare un gesto e quindi fare un gesto di gentilezza nei confronti delle donne e al tempo stesso contribuire a questa causa di solidarietà. Anche i volontari della FIDAS Adas di Gela prenderanno parte alla particolare Via Crucis organizzata dal Movimento Giovanile San Francesco in occasione della manifestazione mondiale 24 ore per il Signore che si svolgerà a partire dalle 22.30 di oggi in piazza Sant'Agostino a Gela. Saranno Gianluca Bentivegne e Giuseppe Musmar entrambi i studenti dell'ultimo anno dell'Istituto Tecnico Industriale Morselli che hanno già aderito al progetto Scuola coordinato da Simona Averna a rendere testimonianza del valore e dell'importanza della donazione del sangue nel salvare una vita rimandando al significato del gesto di Gesù morto sulla croce per salvare l'umanità. Il Soroptimist Club, la FIDAP e l'Inner Will l'8 marzo prossimo in occasione della giornata internazionale della donna organizzano una serata al Cinete Atrantidoto in cui si svolgerà la rappresentazione stanotte dormo tranquilla di Giuliana Fraglica il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale sono pronte e possono essere ritirate all'ufficio di segretariato sociale del comune di Gela le tessere di libera circolazione AST per l'anno 2016 lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali Licia Abela le tessere danno diritto al servizio di trasporto urbano ed extraurbano agli anziani residenti a Gela che le avevano richieste dopo l'avviso pubblicato il 7 luglio scorso gli uffici di Viale Mediterraneo sono aperti al pubblico da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 Tutto pronto per la seconda fase del progetto Elliot 4 il palchetto stage che il Centro Giovanile Musica e Arte propone ormai da ben 14 stagioni agli studenti delle scuole di Gela, di Enne e del Comprensorio saranno proprio le scuole della città ennese e dei comuni viciniori a partecipare come di consueto alla seconda fase del progetto che partirà oggi con la prima delle quattro repliche del musical Cats previste anche domani, venerdì 11 e sabato 12 marzo le quattro repliche di Cats si terranno al Teatro Eschilo e cominceranno alle 10.30 Adesso la nostra consuetta rubrica in breve E' stato prorogato al 15 aprile prossimo al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico Le Dune Gelesi promosso dalla Soroptimist di Gela e rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini Le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto CD in formato JPEG con dimensioni minime di 3 MB e massime di 10 MB La FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai Luce alla Pace a cura della past presidente Angela Incardona Il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente Il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace alla comunicazione, al dialogo interculturale Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica Dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse tra cui carboncino, pennarello, matita in basso, un pensiero di pace ispirato dal disegno I disegni migliori, sei per ogni scuola dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente I tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo Sono previsti premi in denaro Sabato 5 e domenica 6 marzo prossimi si terrà in tutta Italia la quindicesima giornata nazionale Unitalsi Il segno della giornata di cui anche quest'anno è testimonial Fabrizio Frizzi sarà una piantina d'ulivo che verrà proposta come impegno per la pace e la fratellanza in oltre 3.000 piazze italiane Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall'Unitalsi per sostenere numerosi progetti di solidarietà in cui l'associazione è impegnata quotidianamente sull'intero territorio nazionale al servizio delle fasce più disagiate della popolazione grazie al costante e generoso impegno dei propri soci A Gela l'iniziativa si terrà in piazza San Giacomo piazza Umberto I e via Palazzi angolo via Albania Una colomba per la vita con la dolcezza si ottiene tutto anche una nuova vita con questo messaggio sabato 5 e domenica 6 marzo torna anche a Gela e Muretti di Macchitella l'iniziativa promossa dall'associazione italiana Midollo Osseo presieduta da Giacomo Giurato l'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani soprattutto a diventare donatori di Midollo Osseo nel gazebo e nei desk Admo allestiti per l'occasione dove spiccano le colombe per la vita racchiuse nelle ganti confezioni è possibile chiarire dubbi e ricevere tutte le informazioni necessarie per diventare donatori di Midollo Osseo Continua la prima rassegna teatrale per l'infanzia a Gela sabato 5 marzo prossimo alle 18 presso la casa del volontariato in scena la cicale La Formica si tratta del secondo appuntamento con favole in famiglia prima rassegna di teatro per l'infanzia e l'adolescenza gli interpreti sono Fabio Guastella e Ridiana Petrone che ha curato anche i testi e la regia le musiche originali di Giuseppe Nicolosi e le scene di Tiziana Rapisarda Siamo allo sport parliamo di calcio il Gela è atteso da sei finali la Serie D è dietro l'angolo vediamo la Serie D è lì a portata di mano basta non perdere terreno e giocare col coltello tra i denti come su ogni partita ne rimangono sei da disputare fosse una finale combattere su ogni pallone sudare la maglia e non lasciare nulla di intentato feroci sportivamente parlando il Gela adesso in vetta al girone A del campionato di eccellenza e per la prima volta da solo ha dovuto aspettare 24 giornate ma alla fine il club biancazzurro è riuscito nel suo intento ha corso e tanto prima di raggiungere e superare le battistrada adesso sono loro che rincorrono e ci riferiamo a Dattilo Noir e San Cataldese i punti di vantaggio sono tre troppi, pochi nel calcio è inutile fare calcoli perché poi immediatamente smentiti dai fatti l'importante è che si vinca il campionato anche con un solo punto di vantaggio rispetto a chi sta dietro ma lo dicevamo all'inizio non bisogna allentare la presa perché le inseguitrici non aspettano altro un passo falso e tutto è compromesso i giocatori del Gela lo hanno capito e la dimostrazione di forza avuta domenica scorsa in casa del Mazzara battuto per 2-1 ne è la prova più emblematica perché vincere in casa di una squadra che ambisce playoff non è roba di tutti i giorni e la vittoria è stata ottenuta grazie ad una prestazione d'alto spessore sì, è vero, il portiere Pandolfo ha compiuto anche delle protezze ma è altrettanto vero che i biancazzurri del tecnico Toto Bruculeri hanno avuto le loro occasioni per impinguare il risultato domenica prossima il calendario offre al Gela una partita facilissima sulla carta al Presti infatti isola di scena la libertà sarà calmuto fa l'arino di coda con soli 11 punti ma attenzione non bisogna sottovalutare l'impegno perché, lo ripetiamo dall'inizio del campionato ogni qualvolta si affronta il Gela è come se gli avversari giocassero la partita della vita ora, ancora di più, in merito al fatto che si gioca contro la capolista appuntamento a domenica alle 15 è la prima di sei finari che dovranno portare i biancazzurri in palcoscenici più consoni al blasone del team presieduto da Angelo Tuccio sarà illustrato domani alle 18 il programma degli eventi del 2016 promossi dall'associazione sportiva dilettantistica Velo Club Gela presieduta da Antonio Esposito appuntamento nei locali della chiesetta San Biagio continuano gli appuntamenti inseriti nella 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domenica 6 marzo alle 19 al Palazzo Pignatelli concerto del duo Antonella Calleal Flauto e Salvatore Gaglio al pianoforte infine c'è l'informazione cinematografica e Fuoco a mare il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola 17.30, 19.30 e 21.30 il 9 marzo alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo nell'ambito della stagione di Cabaret è previsto lo spettacolo Tram Tram di Lasciate Libero lo Scarrozzo per informazioni 093 39 11 892 oppure 345 58 80 580 è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti